Cambiano i marchi, le persone restano. Centro spedizioni, ballaggi, logistica, in via 25 Luglio a Cava dei Tireni. La campagna è ufficialmente diventata zona rossa. Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, il ministro della salute Roberto Speranza, dopo le valutazioni fatte dalla cabina di regia, ha firmato l'ordinanza valida a partire da domenica 15 novembre per i successivi 15 giorni, che ha decretato il passaggio di Campania e Toscana nell'area lussa e lo slittamento di Emilia Romagna e Friuri Venezia Giulia e Marche nell'area arancione. So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c'è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie, ha commentato su Facebook il ministro Speranza. Ce la faremo, ma è indispensabile il contributo di tutti. Sull'argomento nel tardo pomeriggio di ieri è intervenuto anche il primo cittadino di Cava dei Tireni, Vincenzo Servalli. Perché si è arrivato a questo provvedimento? Lo sappiamo, lo sapete un po' tutti, quindi non approfondisco. C'è una valutazione degli indici, di questi 21 parametri che il governo si è dati come indici di riferimento per stabilire il colore delle zone e nel periodo tra il 2 novembre e l'8 novembre, che è quelli che sono stati presi in esame, gli indici della regione Campania non sono stati positivi con un aumento significativo dei positivi, dei decessi ed un impatto estremamente negativo sul sistema sanitario della regione. era nell'aria, ce lo aspettavamo un po' tutti, anzi ritengo, e questa è una mia considerazione di carattere personale, prendetela come per quella che è, sarebbe stato meglio anche che questo provvedimento fosse anticipato. Se l'obiettivo è quello di stringere i denti ulteriormente adesso, ai fini di contenere la evoluzione della curva del contagio, nell'aspettativa di poter fare con un po' più di libertà, vedremo come, in quali condizioni, questo è difficile dirlo adesso, il periodo natalizio è altrettanto vero che forse questa misura poteva essere prima, ma tant'è. Da domani dunque bisognerà rispettare nuove regole ben più stringenti in tutta la regione. In particolare è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono inoltre vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro. È prevista la chiusura di bar e ristoranti sette giorni su sette. L'asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio, invece, non ci sono restrizioni. Restano chiusi i negozi, fatte cessione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Aperte anche edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri e le attività previste dall'Allegato 23 del DPCM del 3 novembre. Chiusi i centri estetici. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico. Sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale, da CONI e CIP. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale e giochi, sale scommesse e bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per quanto riguarda le scuole, è prevista la didattica a distanza per le superiori. Per le classi seconda e terza media, mentre è consentita la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, elementare e prima media. In quest'ultimo ambito, tuttavia, sono attesi specifici provvedimenti regionali che probabilmente prorogheranno ancora lo stop alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.